Allora arriva una vittoria soffetta in casa dopo un primo tempo possiamo dire disastroso analizzeremo bene questa questa gara ma è giusto è doveroso ricordare oggi ci sono tante primavera per Natalina Iavarone maglia numero uno grande passione grande affidabilità per questa squadra si è sempre fatta trovare pronta anche questa sera non ha voluto mancare nonostante la sua festa Certo sì perché io qui mi trovo come in famiglia loro mi hanno questi due anni mi hanno proprio aiutato tanto 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 è vero che io avevo anche smesso ma loro dure testarde mi hanno chiamato richiamato venuti a casa e allora sono ritornata tu l'hai voluta ripagare però con la tua grande passione diciamo certo certo no ormai dopo tantissimi anni che stiamo insieme non credo di lasciarli più ormai ormai loro mi tengono qui e io sono molto contenta Natalina 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 è contenta per l'esultanza anche della squadra delle sue compagnie di squadra andiamo intanto con Giulia Primo tempo dicevamo abbiamo aperto un po' disastroso diciamolo poche combinazioni e soprattutto poca fase corale di gioco poi nel secondo tempo sicuramente qualche cosa negli spogliatoi è successo ma disastrosa è la parola giusta non abbiamo concluso niente non abbiamo difeso siamo entrate proprio senza testa squadra compassata nervosa sì nervosa senza testa e non è da noi infatti il secondo tempo abbiamo fatto vedere comunque siamo una squadra che merita la posizione in classifica che abbiamo e abbiamo dato tutto abbiamo portato abbiamo lasciato a casa anche questi tre punti allora Giulia ma c'è un'arma se la possiamo chiamare una porzione magica magari durante l'intervallo che vi scuote che comunque vi rimette in gioco poi nel secondo tempo almeno stasera completamente trasformate guarda oggi l'arma vincente sono stati strilli del mister e ci hanno fatto talmente tanta paura che alla fine siamo entrati in campo e abbiamo fatto una buona medicina nonostante che lui abbia perso la voce esatto vorrei spendere due parole per Natalina perché è un esempio di sport di umiltà e per noi è un grande 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 onore averla con noi senti ma lo sapevi che questa vittoria poteva arrivare faticosa ma quando hai visto la palla giù in fondo quella vale il 4 a 3 la prima corsa dove è stata? è la prima corsa verso il pubblico che viene sempre a sostenerci nonostante freddo, gelo, pioggia, donne incinte vengono tutte quindi se lo meritano allora Giulia vittoria in importante si mantiene a ridosso del podio questa squadra anche se l'obiettivo non era quello ma soprattutto fare un campionato piuttosto tranquillo i punti comunque stanno arrivando man mano la squadra si sta esprimendo e adesso c'è un importante impegno perché nel giro di poco più di sette giorni la squadra tornerà in campo per ben tre volte quello più ravvicinato non possiamo dimenticarlo quello di martedì ed è veramente molto delicato sì in casa loro è finita 3 a 1 quindi dobbiamo avere una grande grande prova di forza in casa nostra noi ce la mettiamo tutta ovviamente tutto quello che viene è tutto di guadagnato quindi speriamo bene ma se non dovesse andare così siamo contenti comunque per quello che stiamo facendo sarebbe comunque un grande successo perché voi non vi aspettavate di almeno di passare il primo turno addirittura poi vi siete trovati al secondo turno certo avete affrontato questo blasone come la Roma però siete consapevoli che ci si può fare qualcosa in più sì assolutamente ce la possiamo giocare e ce la metteremo tutta poi come va 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 bene quindi appuntamento con il mondo futsal tv martedì sera per il ritorno di coppa tra la coccinella e Roma femminile